Buongiorno a tutti e benvenuti qui da Romano Auto. Oggi siamo in compagnia di una bellissima Q3 di casa Audi in versione S-Line. Scopriamola insieme. La Q3 è il modello medio tra i SUV del marchio tedesco e in questa versione S-Line troviamo i sedili sportivi, inserti nello lucido e le pedaliere in acciaio. Il motore è un 2000 diesel da 150 CV, abbinato al bellissimo cambio automatico S-Tronic. La guida sportiva con i sedili avvolgenti ci regala una tenuta di strada eccezionale. All'interno troviamo un grande display con sistema multimediale Audi Connect ed un quadro strumenti interamente digitale. Il baule con apertura elettronica ha una capienza di 530 litri. Da Romano Auto con la formula finanziamento senza pensieri sarà tua con 498 euro al mese. Inclusi nella rata, purto, incendio e rapina e la possibilità di scegliere se tenere, sostituire o restituire la vettura. Venite a scoprirla qui in concessionaria. Ci troviamo in via Garibaldi, Polenatropia, Napoli.